ciao ragazzi benvenuti in questo post partita anche se mancano ancora due minutini milan monza risultato parziale 3 a 0 sono qui con steve e col dottor anthony ciao ragazzi ciao ciao chi parte parto io velocemente la partita è stata abbastanza tranquilla anche se abbiamo fatto una grande partenza grande approccio e bello come nei tempi dello scudetto non vedevo approcci così giocatori in palla giocate giuste bellissimo gol di reinders devo dire e ci ha spienato un po la strada poi abbiamo sofferto il giusto secondo me contro questo monza che è una squadra che gioca a calcio ma non ha secondo me un centravanti forte che valorizzi quello che costruisce e ne abbiamo giovato è tornato un buon leao nel primo tempo in alcune sgroppate gran gol di simic che è il giocatore che ha esordito in serie a in pratica oggi esordio giusto di mil simic sì sì e ha segnato quindi ha bagnato le soldi nel migliore dei modi e da lì la partita poi nel secondo tempo l'abbiamo gestita tutto sommato bene ci siamo mangiato qualche gol quella quindi partita positiva si respira un vento nuovo oserei dire speriamo speriamo in realtà abbiamo attenzione intanto abbiamo abbiamo sia diciamo con concesso qualcosina di troppo perché diciamo anche prima il live se stero per quale concedi ad una grande squadra magari ti purga e ti cambia parlando di tiri dai venti venticinque metri però non sono anche qualcosa qualcosa di pensa anche al miracolo di maignan per dire no anche lì hai lasciato un giocatore da solo nell'area nell'area piccola praticamente abbiamo anche sprecato tanto lì davanti negli ultimi secondi girù ma anche altre altre occasioni la traversa clamorosa di pulisic nel primo tempo bellissima bellissima quella traversa lì ovviamente d'accordissimo con tutto quello che hai detto l'unica nota dolente sempre discorsi infortuni a quello ormai perché sono praticamente due anche oggi su temo soprattutto il discorso ocafor speriamo che non sia nulla di grave però una vittoria bella tonda che ci stava che da morale un 3 a 0 che clean sheet clean sheet manca un minutino speriamo speriamo e simic secondo me oltre al risultato è l'altra grande nota bellissima della giornata perché oltre al gol personalità grande personalità anche in fase difensiva sembra bello roccioso e il gol che ha fatto lo dimostra perché va a prendersi quel gol nonostante la l'avversario prego steve avete detto tutto voi mi avete lasciato le briciole no ma sono sicuro che tu riesci a trovare no no è partita come detto anche da voi insomma che è affrontata bene già detto soprattutto a livello tecnico già detto allora possiamo chiudere quel video dai scherzo dai no soprattutto a livello tecnico devo dire per dire reinders ha fatto forse una delle migliori partite da quando è al milan nel senso che ha unito quella sua solita eleganza finita clean sheet clean sheet clean sheet per il milan clean sheet reinders ha unito la sua solita eleganza anche a concretezza perché poi spesso ci dicevamo ma che giocatore è in reinders perché poi non si capisce invece oggi devo dire che come magari altri casi stiamo iniziando a vedere che diventa anche decisivo in zona gol con passaggi illuminanti e oltre al gol ha fatto quel bellissimo passaggio poi sul gol di ocafor che per girù che è stato davvero bello e visionario e detto questo vabbè bellissimo vedere simic trovare quel gol tra l'altro non banale come avete già detto perché comunque se lo va a conquistare e mi chiedo anche perché quando eravamo in emergenza non l'abbiamo provato prima simic perché alla fine mi sembra che possa essere un giocatore che rispetto al camarda di turno che ancora un po leggerino mi sembra un giocatore pronto anche fisicamente no quindi se non sono queste le occasioni perché si è andato anche a sacrificare poi teo centrale no quando invece avevi a sto punto la perché già ti mancava le a o magari avere un teo sulla fascia però vabbè comunque meglio tardi che mai è stato bello bello vedere che abbiamo quest'arma in più speriamo di vederlo spesso adesso anche nelle nelle rotazioni è vero che è stato bello anche l'esultanza di tutta la squadra al gol torno bello bello da gruppo da gruppo devo dire no ma oggi sembra quasi che mentalmente sicuramente eravamo più liberi del solito forse davvero quella vittoria col mio castle c'ha un po è servita a sbloccarci un po mentalmente perché anche in quella partita stessa fino a che fino al sessantesimo eravamo molto proprio quasi contratti di testa invece oggi abbiamo giocato bene ripeto concedendo però qualcosina che come detto se poi lo concedi a giocatori più cinici rischi di complicarti una partita che oggi insomma abbiamo meritato di vincere dal primo minuto all'ultimo si si vede un sinic commosso ragazzo che sta al centro del campo che si vede che è un po preso che vabbè ragazzi esordio bello bello segni giochi bene anche in difesa vinci e penso che non ci sia come dire disegno più bello per per questo debutto difesa a tre stasera ma sai chi ancora ancora adesso non puoi spiegarmi cosa è successo nel senso abbiamo giocato a tre abbiamo giocato a tre pobega ha fatto il terzo centrale sì è partito con pobega terzo centrale che anche lì dici altro esperimento quando poi potevi magari già provare simici dall'inizio però vabbè si è fatto male pobega e ha giocato simici con loro lì cos'è successo quello cioè poi ovvio che pioli ha i suoi ruoli liquidi che non si capisce mai bene a volte florenzi era in mezzo al campo a volte anche teo a destra quindi però comunque la difesa era tre non so se è poi un discorso che dipende anche da come giocano gli avversari magari sta provando a prendere delle contromisure per chi gioca cioè per giocare a specchio con gli avversari anche quando giocherai contro l'inter per evitare di fare sempre lo stesso derby magari sta provando già con un po di anticipo qualcosa di diverso non lo so penso sia per quello anche perché se hai così pochi centrali giocare a tre può essere anche un rischio perché poi se ne esce uno come tra l'altro è successo poi meno male che è i simici però continua ad essere un tarlo questa sequela di infortuni anche oggi musa affaticamento si è infortunato pobega ed è uscito o cafore no per infortuni quindi sì è più che altro perché appunto il solito discorso no è che quando poi li cambi sempre non riesci mai a trovare il giusto equilibrio il giusto dna sarebbe bello fare un po di partite con la formazione tipo anche perché poi se giochi con tra virgolette i titolari e hai in panca gente come ocafor che ti entra e tutta un'altra roba ma ocafor secondo me più di ciuqueze perché dà proprio quel contributo anche a livello di spirito no lo vedi anche più nella partita ocafor e più grintoso e secondo me si fa si fa trovare pronto per cui no e poi c'è da dire che ha giocato poco e segnato tanto cioè nel rapporto tra minuti giocati e gol fatti mi auguro che abbiano fatto una sostituzione preventiva per evitare magari l'infortunio poi magari alla prossima non gioca però c'è da dire che se entri già al settantesimo ed esci per sostituzione preventiva quando devi già giocare 20 minuti sì il fatto che si è uscito proviamo a trovare cose positive il fatto che si è uscito da solo con le sue gambine senza neanche un ci si aggrappa a tutto ma sembra che si allenino lì ad esempio il film full metal jacket li ammazzano in allenamento film che palesemente io e Steve non l'abbiamo visto no no io l'ho visto ok ok se cita Drupi lì faccio un po' fatica sui film vabbè non spoilerare perché hai citato Drupi lo vedrete nella 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 reaction e quindi ragazzi qua è fatidica la domanda no cioè nel senso con un inter a 38 con una partita in meno con una juventus a 37 un milan 32 io dico innanzitutto è bene che abbiamo vinto per il napoli quarto posto e tutto io lo dico sempre mi sento come Aldo Baglio per citare un film anche quei tre che ho visto lì attaccata alla roccia che non sa se scendere non può né scendere né salire ci spetterà tutta una stagione così guardiamo su o si guarda in giù la sensazione cioè secondo me il discorso che bisogna capire se c'è una svolta che magari anche l'aver vinto quella partita con il mio caso può aver portato che ci permette di fare un filotto e di dare continuità di trovare certezze perché ad oggi la sensazione che abbiamo avuto l'abbiamo detto tante volte e che magari facciamo una partita così come abbiamo fatto anche col Frosinone poi magari giochi la prossima e tornano vecchi problemi e quindi a quel punto lì ti aspetta una stagione di alti e bassi dove alla fine rimani lì arrivi quarto e buonanotte se invece riesci a trovare uno switch o qualcosa perché io non mi esalto neanche oggi nel senso che abbiamo fatto una buona prestazione sicuramente meglio di tutte le ultime perché so che questo Milan purtroppo ha sempre questi alti e bassi se riusciamo a trovare quella scintilla secondo me allora può cambiare anche la nostra stagione perché poi è un attimo che davanti perdono due partite però tu guarda la partita di Bergamo dove sembrava ci fosse proprio un'aurea negativa attorno alla squadra e poi vedi Newcastle e poi il Milan di oggi cioè fra il Milan di Bergamo però era solo qualche giorno fa per quello mi preoccupa nel senso che non siamo soliti a questo tipo due squadre diverse voglio dire il Milan di Bergamo era un Milan più passivo invece oggi era più propositivo poi c'è da dire anche l'avversario fa tanto bisogna capire anche quanto abbia fatto il Monza nel lasciarci spazi tu stai riuscendo comunque giocando male da Bergamo con un 2 a 2 e c'è stato il gollazzo di Mubi però alla fine conta sì però no no il concetto è sicuramente quello però vabbè quindi voi non vi esponete guardate su o giù no io guardo su ma guardo anche giù stasera c'è anche Bologna-Roma tutti e due 25 punti cioè no per carità però devi guardare su io penso che il Milan debba tentare di rimanere più possibile aggrappato al trenino di testa e sperare che poi appunto troverà un periodo di continuità dove fai un filotto di vittorie magari gli altri hanno prima o poi anche loro una crisi perché finora quelle che stanno su non hanno ancora avuto momenti di down quindi è fisiologico che magari in una stagione poi c'è quelle 2-3 partite che ti girano male quindi secondo me ci sta a rimanere lì non lo so finora non ho mai creduto a un Milan che possa ambire allo scudetto quest'anno però comunque è sempre bene guardare più in alto cioè non voglio credere di dovermi guardare alle spalle cioè il Milan deve arrivare quarto quest'anno e penso abbia tutte le potenzialità sì assolutamente con Pioli senza Pioli poi non dipende da noi Steve non dipende da noi nel senso cioè la Juventus dà l'impressione che magari a qualche punto lo lascia ma l'Inter in questo momento non è ingiocabile in questo momento sì però sappiamo che anche l'Inter a volte a gennaio febbraio così a quei momenti dove magari con le piccole lascia lì qualche punticino ovvio che poi tu però non puoi continuare a fare che oggi vinci e domani fai schifo cioè devi trovare anche tu il momento di continuità mi auguro oggi in un espluà della Lazio che ogni anno vabbè con l'Inter nelle ultime stagioni le fa delle partite sempre fatto bene le ultime due volte a Roma ha vinto esatto sì però non c'è due senza tre detto questo ragazzi grazie mille grazie Anthony grazie Steve grazie ragazzi alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao